Non c'è pace per Bassano, flagellata ancora una volta con il suo territorio dalle continue ondate di maltempo. Nella tarda mattinata di oggi un altro impulso temporalesco in arrivo da Ovest ha portato fortissime folate di vento sulla città, facendo volare le tegole di alcuni palazzi storici del centro. I vigili del fuoco hanno lavorato in piazza Terraglio e nell'area di Pranto Santa Canterina per rimuovere il materiale scagliato a grande distanza del vento. A Marostica il maltempo ha sradicato un enorme albero che è caduto di traverso su Via della Libertà. La pianta è stata rimossa dalla protezione civile nel pomeriggio e va ad aggiungersi al gran numero di alberi e ramaglie caduti sulla rete viaria minore Marosticensi in questi giorni. Non è mancata la grandine caduta copiosa e di dimensioni piuttosto generose a Romano Dezzelino, Borso e Semonzo. Il resto l'ha fatto la pioggia andando a fare altri danni nelle case e nelle aziende di Tezze e Rosà colpite dalla disastrosa perturbazione di mercoledì sera.